cari testa e fiorite buongiorno bentornati alle noccioline video siamo di nuovo in cube radio con andrea artusi rieccoci rieccoci questa volta la domanda che ho posto da andrea e lui ha detto facciamoci una nocciolina e ma quanta gente lavora un fumetto io che mi occupo di letteratura c'ho l'autore sì che anche lì per dire il vero c'è però insomma c'è lo scrittore se metti l'illustratore c'è l'illustratore questi c'è no 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 allora bisogna fare una distinzione sostanziale che è fondamentale esistono i fumetti che non sono legati a una periodicità e questo sì e quindi lì un autore può anche fare tutto da solo c'è il fumetto da autore infatti gli autori che si scrivono la storia e se la disegnano anche vengono chiamati generalmente autori completi autori perché hanno questa capacità di fare tutto non so prat faceva corto maltese si scriveva le storie se la disegnava pure si faceva anche lettere in certe volte quindi faceva un po tutto però lì il fumetto non ha una necessità di uscita periodica certo quindi quando viene fuori viene fuori il guaio comincia nel momento in cui invece il fumetto ha una sua periodicità e di conseguenza bisogna strutturarsi in modo tale da rispettare questa periodicità ma infatti quando da bambina leggevo topolino mi domandavo come cavolo facessero ogni settimana a uscire con tutta questa roba questa è proprio la domanda che si fanno in molti ora facciamo tre casi fondamentali di tre metodi diversi di affrontare la serialità partiamo visto che tutti ne parlano in questi giorni dal manga cioè dal fumetto giapponese allora a noi i fumetti giapponesi arrivano in un formato che è quello dei volumetti che vediamo ne parleremo distesamente nel corso del 30 esatto che si chiama tanko bon sì però originariamente i fumetti giapponesi manga non escono così quella è una raccolta escono prima su delle riviste gigantesche divise solitamente per genere quindi per ragazzi per ragazze di sport piuttosto che cose di questo tipo e dove all'interno che sono delle riviste settimanali dove all'interno ci sono tante storie diverse e che sono hanno questa caratteristica di essere grossi così nel senso che possono avere anche 7 800 900 pagine inizialmente l'autore comincia a pubblicare le sue prime cose da solo perché gli lasciano poco spazio tipo 5 pagine 10 pagine alla settimana e allora può ancora arrangiare fa ce la fa se l'editore vede che il fumetto quel manga quel fumetto ha una buona risposta da parte dei lettori chiede all'autore solitamente di aumentare il ritmo e qui cominciano i guai è certo perché si può arrivare anche a 20 30 tavole alla settimana che sono impossibili da fare da un autore singolo e di conseguenza il mangaka si struttura con uno studio cioè comincia ad affidare parti della lavorazione del fumetto ad altri ma questo studio lo fa lui o ci sono degli studi a cui tu puoi rivolgerti no 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 lo fa lui infatti gli studi più famosi crea il suo studio i studi più famosi sono legati alla proprio alla figura del mangaka cioè piuttosto che non so c'è lo studio da takashi che quella che fa la mu piuttosto che ciò nonostante è un super lavoro comunque cioè il mangaka cioè l'autore che di solito appunto scrive le storie e fa ne dà l'impostazione generale cioè fa le matite per intenderci è comunque sottoposto a un ritmo incessante e questa cosa è veramente complicata da gestire tant'è che la cronaca ci racconta anche di casi in cui mangaka per via di questo stress ne abbiamo parlato arrivano veramente a un certo punto a non starci più con la testa oppure a pagarne fisicamente le conseguenze come è stato il caso di Kentaro Miura per Berserk questo è un metodo però acquisito nel senso che l'autore è a capo di una piccola struttura dove ha qualcuno che gli fa i fondali qualcuno che gli fa il lettering qualcuno che gli fa le onomatopee cioè i rumori qualcuno che fa altre cose tenete conto che in generale il fumetto giapponese è quasi sempre in bianco e nero quindi non c'è problema del colore e questo è quello che accade nella scena giapponese per quanto riguarda invece ad esempio il fumetto americano c'è un metodo completamente diverso che ha proprio un nome si chiama marvel method che perché l'ha invitato la marvel negli anni sessanta o meglio l'ha inventato stan lee l'hanno inventato stan lee e jack kirby lo sceneggiatore non scrive una vera e propria sceneggiatura della storia ma un soggetto un abstract cioè manda al disegnatore un paio di pagine in cui si racconta che cosa deve fare anche di più dipende ma la storia la storia di quello che deve succedere tenete conto che negli stati uniti gli albi dei supereroi qualsiasi escono in un formato specifico cioè 20 pagine al mese spillate quindi diverso da come lo troviamo noi però devono uscire tutti i mesi quindi il lavoro è diviso fra tante persone in modo da essere certi che quelle 20 pagine escano sempre regolarmente quindi lo sceneggiatore scrive la storia la manda al disegnatore il quale a suo giudizio la mette in scena si la divide anche a livello di vignette di modalità narrativa ok il testo non c'è ancora e e la fa solo a matita infatti si chiamano penciller cioè quelli che fanno i matitari ok però deve ha l'obbligo essendoci mediamente 20 giorni lavorativi a settimana di consegnare una tavola al giù cioè una pagina al giorno finita a matita rigorosamente sono terribili quelli della marvel non accettano se no poi slitta tutto a questo punto la matita che viene verificata dallo sceneggiatore passa all'inchiostratore che è quello che fa il segno nero per intenderci il quale la passa al colorista che è quello che fa i colori a questo punto lo sceneggiatore prende in mano la storia e sulla base di come è stata messa giù mette i dialoghi quindi dialoghi inizialmente non ci sono ma lo sceneggiatore può dire qualcosa sui colori interviene assolutamente sì in allora può intervenire lo sceneggiatore ma in questo caso interviene anche un'altra figura che viene chiamato editor in chief cioè l'editor di quella testata e il capo redattore che dice colori deve dare continuità e deve garantire l'autore deve anche fare la copertina con le stesse caratteristiche matita inchiostrazione colori separate dopo di che alla fine viene fatto l'editing l'editing finale è quello dei balloon cioè delle nuvolette e delle onomatopee che sono fatti separatamente poi tutto viene impacchettato ed è pronto per arrivare ogni mese regolarmente in agricola c'è l'onomatopeista c'è l'onomatopeista di solito quelli che fanno il lettering adesso fanno anche le onomatopee perché fatto tutto in digitale eccetera questo è proprio il marvel method creato da stelli e jack kirby in particolare ma poi anche da altri in italia succede una cosa diversa il nostro fumetto è se noi prendiamo come paradigma il fumetto di fumetti bonelliani come li chiamiamo cioè quelli editi della sergio bonelli editore allora la cosa diventa ancora più diversa perché abbiamo albi da 94 pagine in bianco e nero nella stragrande maggioranza dei casi sarebbe impossibile per un disegnatore farlo in un mese se esce mensilmente mediamente un disegnatore per fare un albo ci mette dagli 8 ai dieci mesi quindi che cosa succede c'è uno staff di 20 disegnatori tanto per dire no in modo tale da uscire tutti i mesi regolarmente che si danno il cambio quindi c'è il creatore di un personaggio il creatore del personaggio e poi però viene disegnato fisicamente da altre persone c'è il creatore del personaggio ci sono degli sceneggiatori si può essere il creatore ma possono anche essere diversi i quali invece che come la marvel di dare una storia così poi si arrangia il disegnatore danno una sceneggiatura estremamente precisa già divisa vignetta per vignetta nelle sue descrizioni con già i dialoghi e già le onomatopee a questo punto il disegnatore deve calcolare gli spazi dei dialoghi perché sa che ci deve andare un balloon mentre le onomatopee le fa lui le fa il disegnatore a questo punto quando ha finito tutto questo lungo lavoro che può durare anche un anno solitamente passa le tavole alla redazione che fa il lavoro finale di editing è quello di metterci le nuvolette con con il lettering cioè le paroline dentro e fare tutti gli aggiustamenti del caso più la parte redazionale solitamente per un albo bonnelliano se calcoliamo tutte queste fasi il tempo di lavorazione è un anno ciò vuol dire che se hai una testata che esce 12 mesi cioè 12 volte l'anno messilmente hai contemporaneamente 12 disegnatori e 12 sceneggiatori che stanno lavorando e mano a mano che finiscono si pubblicano la stessa cosa funziona per topolino dove ci abbiamo già detto che è fatto tutto in italia rimandiamo a vedere andate a vedere il video in cui l'abbiamo raccontato che funziona tutto sommato nello stesso metodo della bonelli cioè dovendo uscire tutte le settimane a tanti disegnatori e tanti sceneggiatori che lavorano contemporaneamente perché le storie tra virgolette lunghe di topolino quelle da 40 pagine solitamente richiedono tre o quattro mesi di lavorazione è un lavoraccio fare il fumetto allora cioè lavorare nel fumetto è veramente un lavoraccio è un lavoraccio poi ha tanti lavori c'è lo sceneggiatore l'inchiostruttore il colorista l'autore che magari è quello che poi adesso se ne stanno aggiungendo anche delle altre figure per esempio una volta non c'era lo story border oggi è una figura che sta entrando in gioco perché perché se hai delle serie lunghe con disegnatori diversi devi riuscire a dare continuità e certo e lo sceneggiatore del numero 8 può non sapere quello che è successo esattamente questo è quello che fa nella marvel method il chief si è un po quello che fa l'editor chief in marvel method che però tutto sommato lui non è un disegnatore ma può essere affidato a dei disegnatori specifici soprattutto quando hai serie che devono rimanere compatte si è una lavorazione complicatissima in realtà e soprattutto e lo ripeto perché tante volte una domanda che viene fatta molto più lunga di quello che si crede cioè la convinzione diffusa è che un fumetto si faccia in pochi giorni o robe del genere no per dire io faccio sempre questo esempio quando magnus l'autore di alan ford eccetera accettò l'incarico di fare un numero di text gigante che era fatto di 240 pagine disse non so quanto ci metterò cinese sette anni ci credo per carità di un eccesso però così sì sì no quello che che mi domando in tutto questo chi chi fa la parte per esempio del disegnatore è come se facesse il ghostwriter cioè lì non si vede la sua mano perché lui deve lavorare su qualcosa che non è suo si può accadere che raramente che sia contemporaneamente a sceneggiatore e disegnatore ma è molto raro ma è molto raro ti dirò di più la sceneggiatura è una cosa che scompare completamente nel senso che noi la vediamo disegnata ma non la leggiamo e invece se tu leggessi una sceneggiatura è interessantissimo perché questo succede anche nel cinema ma non c'è una descrizione accurata degli ambienti delle cose no e c'è un dialogo tra lo sceneggiatore e disegnatore è molto è tutta una fase affascinantissima per lo più invisibile sì sì però se uno dice non lo so martin mister di chi è martin mister dice di affreddo castelli ok però però lui ha inventato il personaggio poi in realtà su quel personaggio ci hanno lavorato in 50 se va bene certe volte sono anche ma ultima domanda e chiudiamo ma uno bravo 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 nel senso uno proprio che come te insomma che conosce bene il fumetto no nel senso che lo conosci molto bene riconosci la mano di un disegnatore a occhi cioè nel senso senza mai guardare i credits cioè il disegno un disegnatore professionista come uno sceneggiatore professionista o un editor professionista apre e riconosce chi l'ha disegnato ma pazzesco e questa cosa qua io riuscivo a farla quando avevo 7 8 anni con gli albi della marvel cioè kirby steranko romita insomma questi sono livelli siamo impallinati siamo fatti così sì sì ognuno ha le proprie io le mie per carità e ognuno ha le alimento è complicato ognuno ha le sue se ci sono ulteriori domande o cose che non vi sono chiare o che magari in curiosità scriveteci che noi sapete che rispondiamo sempre bene un saluto a tutti grazie andrea di queste delucidazioni non lo so magari in un'altra vita farò l'inchiostratrice ci vedrai bene come inchiostratrice non sono a tenere neanche la matita dovrei proprio cambiare qualcosa sì 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 ciao a tutti